Lilli Gruber assente a otto e mezzo per motivatissime ragioni familiari. A renderlo noto è il direttore del TGL A7 Enrico Mentana. Nell'appuntamento serale del 18 dicembre 2023, il giornalista spiega che la collega non sarà alla conduzione della solita puntata, fermata, racconta, da appunto, motivatissimi impegni per sottotitoli. Mentana in diretta ha spiegato ai telespettatori che Lilli Gruber non sarebbe stata alla conduzione della puntata. Al suo posto, spiega il sempre Enrico Mentana, in sostituzione, Giovanni Floris. Neanche la Sette aveva comunicato durante la giornata l'inaspettata assenza di Lilli Gruber da otto e mezzo. Questo fa comprendere che probabilmente l'assenza della Gruber è stata dovuta ad un problema improvviso. Floris tuttavia ha preso il comando del programma, aprendo la puntata con l'annuncio che Lilli Gruber, è stata trattenuta da problemi familiari e io volentieri do una mano. Tuttavia, le ragioni precise di questa interruzione non sono state dettagliatamente spiegate. La puntata ha visto la partecipazione in studio di Alessandro Giuli, Alessandro De Angelis, Sabina Guzzanti, e in collegamento Marco Travaglio. Il focus di otto e mezzo è stato incentrato sulle polemiche tra Chiara Ferragni e Giorgia Meloni, oltre all'analisi della Kermess DFDI, denominata Atreiu, che si è conclusa ieri con l'intervento del primo ministro.